Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video Oggi vi posto una decklist che sinceramente non avrei mai pensato di fare Tuttavia l'idea mi è stata proposta da un utente e possiamo dire ho accettato l'invito Quindi come potete vedere oggi vi mostro la decklist del Yosenju Allora Yosenju, classico mazzo cagacazzo, rompe letteralmente i coglioni all'oppo e anche a me Ma vabbè senza perdere tempo vediamo la lista Iniziamo quindi con Thunder King perché ha l'artwork bello No vabbè è un 1.9 e lì ho 4 molto ma molto forte Poi vabbè Kama 1, Kama 2, Kama 3 sappiamo contare E poi Tsujik Per l'Espels ovviamente dato che non facciamo molte special summons Abbiamo 3 pod, tripla tanki, raigeki, dark hole e doppia necro valle Che se non vi piacciono di main potete spostarle di side e magari sostituirle con due tifoni Insomma quello che vi piace Per le trappole di cui in un certo senso il mazzo avusa Abbiamo 3 rose one turn, unica carta costosa del mazzo possiamo dire Doppia Fiendish Chain, doppia Mirror Force, Secret Move in due copie Mistake, Solent Warning, Torrential, Vanity, Macro Cosmo, Bottomless E poi anziché giocarmi con Pursery ho preferito giocare la nuova Mirror Che sembra essere una carta sottovalutata ma è molto forte anche contro Cosmo Infine per l'extra abbiamo Dweller, Tiger King Questo col nome brutto Castle, il drago ribellione Itzid che è una carta molto molto sottovalutata ma per me è molto forte Direwolf, Exciton, Doppio Cowboy, Cidori, 101, Ragnazzero, 82 che se non erro ha l'effetto simile a Nightmare Shark Diamond e poi chiamiamolo Tolomeo Vi ringrazio per aver visualizzato e per aver guardato il video fino a questo punto Vi chiedo di lasciare un mi piace, un commento con un parere o una critica positiva o negativa Basta che sia costruttiva insomma E niente, anche se avete qualche domanda scrivete qui sotto Condividete il video per spargere voce sul canale Per diventare famoso in money grabber No vabbè scherzo E seguitemi su Facebook per qualsiasi novità del canale Il link ovviamente sta qui in descrizione Quindi nulla ragazzi Ripeto, iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace, un commento E arrivederci al prossimo video